Sono Orogel. Sono pronto. Pronto ad accogliervi con verdure dal gusto unico. Le sere in cui tornate tardi, ma anche quelle in cui non uscite di casa. Pronto a farvi assaporare fantasia e leggerezza. A farvi improvvisare una lasagna vegetale per una cenetta con gli amici più esigenti. Ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto ad essere la scelta giusta dopo una giornata piena di imprevisti. Sono Orogel. Sono pronto a farvi sentire i profumi della campagna anche in città. A farvi innamorare con un piatto fatto con tutto il cuore. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto. Pronto a tutto.